Musica Benvenuti all'edizione dell'audio giornale dedicato alle principali notizie accadute in Friuli, Venezia, Giulia. Un incremento di 9 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1668, mentre i clinicamente guariti, 130. Si registrano 4 decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 303 il numero complessivo di morti. Lo ha comunicato come sempre dalla sede operativa della protezione civile di Palmanova il vice governatore del Friuli, Venezia, Giulia, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda invece il territorio, il più colpito rimane sempre la zona di Trieste, con 163 casi, Udine 73, Pordenone 63 e Gorizia 4. Relativamente invece ai casi positivi, Trieste registra 1.292 infettati, Udine 958, Pordenone 646 e Gorizia 189, 4 i pazienti in terapia intensiva, 120 quelli ricoverati in altri reparti e 860 in isolamento domiciliare. Sono state circa 1.500 le persone che hanno viaggiato ieri, primo giorno della fase 2, sull'intera rete ferroviaria della regione, pari a circa l'8% dell'affluenza di un giorno normale, quando si registra un po' meno di 20.000 pendolari. Lo rende noto rete ferroviaria italiana. Nella fase 2, dopo il lockdown, che aveva ridotto i convogli al 20% del totale, si è passati da 25 a 97 treni regionali. Anche oggi, come ieri, fa sapere RFI, non sono stati registrati problemi di affollamento o assembramenti. Per quanto riguarda il trasporto locale, nessuna criticità legata ad affollamento è stata riscontrata sia ieri che oggi sugli autobus di Trieste. Nella giornata di lunedì, ricorda Trieste e trasporti, la media era di 10 passeggeri a bordo, con punte di 35, quota che non è mai stata superata. Nel capoluogo regionale si rinsalda inoltre il takeaway, con diversi bar e ristoranti che offrono caffè e cibo. Andrebbe fatto un monumento ai nostri soci, che hanno aperto per dare un senso di vita alla città, afferma il presidente di Confcommercio Trieste, Antonio Paoletti. Ma gli affari sono pochi. Sono 3.016 le persone controllate nella giornata di ieri dalle forze dell'ordine in regione, nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Di queste, 53 sono state sanzionate per inosservanza. E quanto emerge dai dati diffusi dalla prefettura di Trieste? Durante le verifiche, 41 persone sono state denunciate per altri reati. Sempre ieri, le forze dell'ordine hanno controllato anche 1.357 esercizi commerciali. Migliorare performance ambientale ed efficienza energetica dei porti, realizzando concrete azioni pilota in diversi ambiti quali rumore, qualità dell'aria ed emissioni di CO2. E' l'obiettivo del progetto europeo SUSPORT, approvato dal programma di cooperazione trasfrontaliera Interreghi Italia-Croazia, di cui il porto di Trieste è capofila. Il progetto ha un budget di circa 7 milioni di euro, di cui 753 mila a favore dell'autorità di sistema portuale del mare, Adriatico-Orientale, e una durata di 34 mesi. SUSPORT, informa la nota, è l'unico progetto strategico nell'ambito del trasporto merci-marittimo approvato dal programma e vede coinvolte tutte le autorità di sistema portuale italiane della Sponda Adriatica, oltre a Trieste, i principali porti croati, ente di ricerca e agenzie di promozione di entrambi i paesi. Il porto di Trieste approfondirà gli studi nell'ambito del carbon footprint, sostituirà gli impianti di illuminazione delle aree pubbliche del porto con sistemi a LED e acquisterà un'auto elettrica. La tutela ambientale diventa sempre più strategica per i porti, afferma il presidente dell'autorità di sistema, Zeno D'Agostino. I porti del futuro devono e possono essere green. Non ha mai smesso l'attività dal Consorzio Acquedotto Friuli Centrale durante il lockdown per assicurare la continuità del servizio. Da due settimane hanno ripreso i principali cantieri di acquedotto, fognatura e depurazione, una ventina, bloccati dai decreti del Governo, che producono un volume di investimenti pari a 10 milioni di euro a fronte dei 25 investiti annualmente tramite appalti. Si tratta di cantieri che mobilitano imprese terze di significative dimensioni. Per citare solo alcune delle località coinvolte, Lignano, Talvisio, per quanto riguarda importanti lavori alla rete Fognaria, poi Fagagna, Torviscosa, Rivignano Teorce, Rivignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro e tanti altri comuni gestiti, rendono noto il presidente e direttore del CAF, rispettivamente Salvatore Benigno e Massimiliano Battiston. Naturalmente si tratta di lavori che si svolgeranno più lentamente, visto che le necessarie norme di sicurezza rallentano fisiologicamente le operazioni. Complessivamente ammontano a 16 milioni di euro le forniture con le ditte, che per il 90% sono radicate sul territorio regionale e in gran parte in provincia di Udine. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo per la giornata odierna, mercoledì 6 maggio, di prima mattina nuvolosità variabile con tendenza a schiarite fino a cielo sereno in giornata. Sarà comunque possibile qualche annuvolamento e qualche isolato rovescio sulla fascia prealpina, specie verso il Veneto. Si offrirà bora moderata in pianura, temporaneamente sostenuta sulla costa, ma con tendenza a girare in brezza nel pomeriggio verso ovest. Le temperature, le minime in pianura tra 9 e 12 gradi, le massime oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi. Sulla costa le minime tra i 12 e i 15, le massime tra i 19 e i 22 gradi. Con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.